Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Sembrava che tutto si fosse risolto per il meglio dopo l'enorme spavento dei primi istanti. E invece a una settimana dal salvataggio in mare il ventenne Nabil Rezou è venuto a mancare. Il giovane di origine marocchina ma residente a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso si era recato mercoledì scorso con gli amici a Iesolo per trascorrere una giornata al mare. La tragedia si è consumata nel pomeriggio all'altezza della Torretta 9 tra Piazza Mazzini e Piazza Trento. Il ventenne stava giocando in acqua con alcuni amici in un tratto dove comunque si toccava quando all'improvviso è scomparso tra i flutti. Immediato l'intervento dei soccorsi con i bagnini che hanno recuperato il giovane. Le condizioni del ragazzo sembravano discrete, tanto che non si era reso necessario l'intervento dell'elicottero e per lui era iniziato il trasferimento all'ospedale di St. Donà. Invece di riprendersi però le sue condizioni sono peggiorate e a una settimana dal terribile incidente è venuto a mancare. Dopo aver studiato all'Istituto Giorgi, Nabil Rezou aveva lavorato come pizzaiolo con una esperienza anche all'estero, a Londra. Una forza inaudita del vento durata neanche 30 secondi. Paura e danni a Teglio Veneto. Il cielo ieri pomeriggio all'improvviso è rimasto coperto da nuvole minacciose che hanno fatto sparire il sole, poi un rumore sordo e la furia del vento che ha spazzato via tutto sembra la scena di un film ma è purtroppo la triste verità di un clima completamente cambiato e che sta mettendo in evidenza tutta la sua forza. E' accaduto ancora, questa volta, nell'estremo lembo orientale del veneziano a Teglio Veneto. Erano le 15.30 circa quando il cielo si è fatto scuro. L'umidità che fin dalle prime ore aveva caratterizzato una giornata affosa all'improvviso. Ha lasciato spazio alle raffiche di vento, tanto da far cadere la pioggia orizzontalmente. E' stata una scena che non avevo mai visto, ha raccontato Aldo che vive in un centro al paese. Arrivava il vento con una sorta di pioggia di lato, non dall'alto. Perché quelle non erano altro che le gocce delle nuvole lontane, chilometri di distanza. Ed è stato quel breve lasso di tempo che il fortunale ha provocato i danni. Ero in casa mentre li posavo, racconta una delle vittime del maltempo, che vive in via Portogruaro. Lì per lì non mi ero nemmeno accorto che il tempo era cambiato. Ho sentito un umore strano che non avevo mai sentito. Poi tutto un trambusto che mi ha inevitabilmente scosso. Quando mi sono affacciato alla finestra per capire cosa stesse accadendo, ho visto volare la copertura del tetto. Poi sono uscito e ho visto danni ovunque. Il tutto è durato nemmeno 30 secondi. Poi è arrivata la pioggia. Ed è a quel punto che sono iniziate a fioccare le richieste di aiuto al 115. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Portogruaro e Sandonà, raggiunti dai colleghi di Mestre e Pordenone, con le rispettive autoscale. I danni maggiori sono stati per i proprietari di tre abitazioni in via Portogruaro, il cui tetto è volato via. Lo stesso è accaduto in via Perarutto, dove un albero è caduto tranciando anche i cavi dell'energia elettrica, provocando il blackout. In via Parze sono invece rimasti isolati da internet per un cavo della compagnia telefonica rimasto danneggiato e finito sulla strada con un palo caduto. Sulla strada metropolitana 91, lungo via Garibaldi, in via Ippolito-Nievo, sono accaduti degli alberi che hanno tranciato i cavi elettrici. Danneggiate seriamente anche due aziende della zona artigianale di Cintello. Il vento ha scoperchiato infatti l'essiccatoio della Agrinord con infissi e finestre distrutti e la copertura del tetto che è volata su quello dell'azienda di fronte, provocando ulteriori danni. Ovunque sono caduti calcinacci, comignoli, tegole e grondaie che hanno danneggiato a loro volta almeno una ventina di autovetture. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito. In soccorso è arrivata anche la protezione civile con i carabinieri, la polizia locale, le squadre intercomunali arrivate da San Michele, Concordia, Annone, Fossalte di Porto Gruaro, Teglio e Pramaggiore. Danni anche per l'agricoltura con le raffiche di vento che hanno cancellato coltivazioni di mais lungo la strada afferrata mentre al resto ci ha pensato la Grandine. In campo anche le squadre della compagna di telefoni e dell'Enel che in serata sono riuscite a riportare l'energia elettrica un po' ovunque. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per coprire i tetti delle case scoperchiate permettendo in questo modo a tutti di rientrare a casa. Secondo una prima ricostruzione il vento soffiava da nord-ovest provocando danni anche nella vicina Cordovado in provincia di Pordenone. Oscar Cecuto, sindaco di Teglio Veneto Lei ieri sera aveva un incontro con i sindaci del mandamento di Porto Gruaro per il problema dell'acqua quando piove e fatalità è arrivata una tromba d'aria. Lei come sindaco non si fa proprio mancare niente, devo dire. Ma al di là di questo, come è andata ieri sera? Quali sono stati i danni di questa tromba d'aria? I danni finali dobbiamo ancora conteggiarli perché adesso con il bel tempo di oggi cominciano ad uscire i vari problemi. Però comunque abbiamo avuto degli scoperchiamenti di abitazioni private, scoperchiamenti di tetti in zona artigianale con ingenti danni anche per alcune entità produttive, varie caute di alberi sia in zone private sia da privati verso i pubblici e anche in una stava provinciale abbiamo avuto delle caute di alberi, alcune hanno anche tagliato, rotto i cavi dell'energia elettrica e in una via abbiamo anche la caduta dei piloni del telefono con la caduta anche del cavo, anche in questo caso del telefono. Quindi abbiamo attivato l'intercomunale di protezione civile e devo ringraziare tutti quanti i sindaci che hanno intervenuto, hanno risposto positivamente, anche per esempio devo ringraziare Concordia che è venuto con il camion della provincia per aiutarci appunto con protezione civile per il taglio alberi e lo sgombro delle strade. Sono intervenuti i vigili del fuoco di staccamento a Porto Gruaro, Sandonà e anche dalla centrale di Mestre con un'autoscala e anche un'autoscala dalla centrale di Pordenone. Questo sta a indicare che nel nostro territorio c'è stato qualcosa di grosso, i danni appunto nei prossimi giorni li dovremo calcolare, valutare. Abbiamo chiesto però stato di crisi perché appunto dopo i nubi ufragi del 9 di giugno, del 19 giugno, il 29 giugno ieri appunto abbiamo avuto anche questa butta sorpresa. Abbiamo già comunicazioni con la regione perché abbiamo chiesto stato di crisi, perché appunto è un accumularsi di vari eventi e penso sia opportuno che la cittadinanza, bensì devo dire che ieri si è messa in moto, altrimenti c'erano motoseglie che correvano tutta la notte, però hanno bisogno di aiuto perché i danni anche alle abitazioni, case appena sistemate hanno avuto danni ingenti e penso che l'aiuto sia doveroso, bensì come conosciamo noi i vagneti, insomma ci arrangiamo come i friulani. Ecco devo ricordare che anche il friuli ci ha aiutato, il comune vicino di Corlova ha domato l'operazione civile, quindi un ingente numero di persone ha lavorato nel nostro comune ieri. Hanno forzato il capano degli attrezzi dell'impianto sportivo usato dal Portogruaro Calcio, danneggiato gli impianti per poi bruciare tutto. A Monta oltre 20 mila euro il danno provocato dall'incendio doloso che ieri notte è stato appiccato agli impianti sportivi di Vialovisa a Portogruaro. Una struttura di proprietà della parrocchia della Beata Maria Vergine Regina che ne ha concesso l'uso alla ASD del Portogruaro Calcio. L'allarme è arrivato poco dopo la mezzanotte al 115. Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco hanno mobilitato le squadre di Portogruaro e San Donà per scongiurare che le fiamme si propagassero. Nonostante ciò l'incendio è stato devastante, tutto infatti è dato in fumo. Bruciati i due container che contenevano tutta l'attrezzatura per il giarginaggio, nonché le casacche e i palloni della società sportiva tuttora è al vaglio dei carabinieri di Portogruaro diretti dal luogotenente Corrado Mezzavilla che hanno avviato l'indagine. Gli investigatori non escludono nulla ma dalle prime indagini potrebbe trattarsi di una bravata costata cara alla società Granata. Di certo è stata forzata la porta d'ingresso del magazzino che contiene l'attrezzatura per la gestione del campo sportivo tra cui dei decispugliatori, cariole, un trattorino per lo spaccio dell'erba, tutta merce acquistata da poche settimane. I vandali sono entrati, hanno danneggiato l'impianto di sorveglianza e quindi versato a terra la benzina che serviva per il trattorino. Poi qualcuno deve aver dato fuoco. Le fiamme si sono subito alzate paurosamente verso l'alto, alimentate dalla stessa attrezzatura. Il calore si è poi sprigionato al container vicino, tanto da danneggiare anche i palloni e le casacche delle squadre. La società non ha mai ricevuto alcuna minaccia e anche per questo gli investigatori propendono per un atto vandalico. Al vaglio dei carabinieri c'è però una telecamera che punta sulla struttura il cui filmato è già in mano dei militari. Lì potrebbero essere finiti gli autori dell'ospregevole gesto. Purtroppo non è la prima volta che accadono dei danneggiamenti nella zona, ma questo è andato oltre ogni limite. Altre volte erano state dannegiate le strutture parocchiali, ora il magazzino della società sportiva. Nella zona, uno dei quartieri più popolosi della città, si chiede più attenzione. Ci sentiamo abbandonati, purtroppo. Ci sono diversi casi di danneggiamenti e nessuno ci viene in aiuto. Qui c'è una struttura sportiva che andrebbe valorizzata. Solo grazie al portugaro calcio qualcosa si è mosso. Sono stata tra i primi a denunciare il tentativo dell'Austria ed accaparrarsi una fetta importante del turismo intra-europeo, creando una sorta di corridoio tra la Germania e la Croazia e alzando un muro con l'Italia. Ho protestato a mezzo stampa, ho presentato l'interrogazione alla Commissione Europea. La risposta è arrivata. In sostanza, Bruxelles conferma quello che chiedevamo. L'Austria deve rispettare il principio della non-discriminazione, in base al quale, qualora uno Stato membro decida di autorizzare i viaggi nel proprio territorio o in regione e zone specifiche all'interno del suo territorio, dovrebbe farlo in modo non-discriminatorio, consentendo i viaggi a tutte le zone, regioni o a tutti i paesi dell'Unione Europea, avendo una situazione epidemiologica analoga. In altre parole, l'Austria avrebbe dovuto aprire le frontiere subito non solo a Germania, Croazia e Slovenia, ma anche all'Italia, cosa che ha fatto solo di recente. Purtroppo è tardi e se il nostro governo e l'Unione Europea hanno saputo far rispettare questo principio quando si decideva una parte importante nella stagione turistica. Questo dimostra, da un lato, la scarso preso diplomatico dell'esecutivo giallorosso, persino nei rapporti con uno Stato dell'Unione Europea confinante, dall'altro la incapacità di Bruxelles di rispondere in modo coordinato alla crisi del turismo. Ormai il danno è fatto e, come al solito, le nostre imprese e i nostri lavoratori dovranno rimboccarsi le maniche e far da sé. Lo dice la stessa eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, in merito alla risposta che ha ricevuto dal commissario europeo al turismo, Thierry Breton, a una interrogazione in cui denunciava la concorrenza sleale dell'Austria in campo turistico. Rispondiamo con un bilancio che è riuscito, purtroppo sarebbe stato bello riuscire a scaricarlo su ben altre opere, 62 milioni di spesa libera. Però ci è servito per chiudere il bilancio di quest'anno e per fare una manovra in completa controtendenza alle città. Guardate, il Comune di Venezia ha circa 120 milioni in meno, queste sono ovviamente previsioni, vedremo il saldo poi a finire, ma circa 120 milioni in meno è una delle città più colpite d'Italia per la mancanza di introiti legati alla filiera turistica. Su questi 120 milioni, per adesso il governo ci ha dato circa 10 milioni, più un milione e tre, che è quello dei buoni che poi abbiamo distribuito alle persone con difficoltà, eccetera. Poi ci vengono a fare lezioni. Con una differenza del genere, se noi avevamo un disavanzo, avevamo un bilancio anche solo in equilibrio, avremmo portato in dissesto immediatamente il Comune con una ricaduta nei servizi sociali drammatica per la città. Beh, non solo abbiamo retto, forse speravano che successe questo, invece i conti sono conti, l'amministrazione la sappiamo fare, abbiamo utilizzato questo attivo e questo avanzo proprio per compensare questa latitanza, in questo caso, dello Stato. Poi c'è questo segnale dell'acquisto del Teatro Toniolo, che è più o meno un'operazione che abbiamo fatto anche a Lido con il centro congressi. Su Mestre vogliamo costruire il Polo della Cultura, a proposito di quelli che dicono che il sindaco se le delega, eccetera, sono tutti loro, come sempre. Sono tutti loro e hanno distrutto la città. Beh, noi non vogliamo tornare a quei tempi là. Compriamo il Toniolo perché assieme ai Cambiani vogliamo fare un grande Polo della Cultura. Poi adesso aspetteremo i progetti dell'M9 di questo nuovo presidente Bugliesi e di tutto il suo gruppo e siamo ben contenti di aiutare proprio per costruire sempre di più su Mestre il centro della cultura della contemporaneità, la cultura di quel progresso che può far paio con la difesa proprio delle nostre tradizioni, delle nostre storie. Sono numeri, le chiacchiere stanno a zero. Il bilancio è fondamentale, è fondamentale per i privati, per le famiglie, per le imprese e perché no deve essere anche la cartina attorno al sole per la pubblica amministrazione. Non possiamo continuare a fare debiti. A Venezia questo non succede, a Venezia con i soldi che abbiamo ricavato pur non avendo avuto quasi niente dal governo siamo riusciti a tenere la barra dritta e ad aiutare la nostra città e ce la faremo. Cosa avete previsto? Facciamo qualche esempio, sono tante le misure ma vogliamo dirne qualcuna? Sono tante, sono tante le misure per la fascia sociale che ci aiuta nella vita della città, per cui tutto il mondo dello sport abbiamo azzerato completamente canoni, concessioni e consumi e tutto il mondo dell'associazione culturale, dell'associazione culturale e delle società che lavorano in questo ambito. Poi abbiamo rinviato pagamenti mettendo finanza nostra, abbiamo fatto in modo che si possano azzerare tutte le tasse per i patriatici, non solo che dal governo ma molto di più tutto l'anno. Abbiamo fatto una serie di provvedimenti che verranno scritti anche con una serie di regolamenti, però abbiamo postato i soldi. Diciamo che possiamo guardare con più fiducia. Abbiamo salvato la CTV, grazie anche ai dipendenti ma anche e soprattutto ai cittadini che ci hanno compreso tranne a quelli che fanno continuamente proteste, tutto sommato elettorali evidentemente. Abbiamo avretto un periodo difficilissimo. Consigliate che la CTV avrà in previsione meno 81 milioni di incassi e dal governo sono arrivati soltanto 15. Per cui la differenza la stiamo mettendo noi. Abbiamo efficientato, i cittadini sono atti con i loro mezzi privati, siamo riusciti a ottenere dai certificatori un meno 39 di previsione che consente la continuità aziendale, vuol dire salvaguardia di tutti i posti di lavoro, continuità aziendale vuol dire sicurezza che la CTV resta pubblica del comune, che è una delle strutture importanti per la gestione della nostra città. Insomma, fatti concreti rispondiamo col sorriso a persone che continuano a non sapere nulla di numeri, a parlare a vanvera, gente che fa sempre debito, persone che vivono sul debito da sempre. Scegliete sempre quelli che vi fanno vivere sul debito e i debiti vanno pagati prima o poi. A Venezia li abbiamo calati e siamo tornati in attivo. Queste sono le nostre risposte. Vogliamo giovani, vogliamo gente seria. Non ci interessano i partiti, non ci interessano le appartenenze, ci interessano le cose oggettive, le cose che si possono misurare il bilancio. La sala consigliare a Palazzo Burovic di Casarsa ha ospitato l'Assemblea dei Socii di Alivenza Tagliamento Acque che ha approvato alla unanimità il bilancio 2019. Piena soddisfazione è stata espressa dal CDA della società e dal presidente di LTA Andrea Vignaduzzo che ha colto l'occasione per evidenziare alcuni dati e capire lo stato di salute dell'azienda e il suo ruolo strategico per il territorio. Il bilancio 2019 conferma il percorso di crescita intrapreso dalla società negli ultimi anni, ha spiegato Vignaduzzo. In continuità con gli esercizi precedenti, LTA registra performance economiche positive, espressione della capacità dell'azienda di operare secondo principi di efficienza ed economicità. Nel 2019 si è registrato un valore della produzione di 37,8 milioni, in crescita di oltre il 5% rispetto al 2018, un margine operativo lordo di 6,2 milioni di euro e un utile netto di 1,7 milioni di euro che è stato destinato ad incremento del patrimonio netto per permettere il reinvestimento nel territorio e il potenziamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato. Dal punto di vista della solidità finanziaria e patrimoniale, l'azienda si è rafforzata con la riduzione del proprio debito finanziario di 2,5 milioni di euro e l'aumento del patrimonio netto, 52,8 milioni, di oltre 1,5 milione di euro rispetto al 2018. L'anno scorso la società ha realizzato 18,7 milioni di euro di investimenti, fa sapere Vignaduzzo. Questo dato conferma il trend positivo dell'azienda degli ultimi tre anni che si sostanza in circa 43 milioni di euro di investimenti che hanno permesso di intervenire per un margine di qualità del servizio offerto. Qualche dato in più, il 35% degli importi spesi nel 2019 è stato finalizzato al miglioramento e deficientamento dell'acquedotto come il rifacimento della rete di distribuzione a Sastino di Rivenza e il rifacimento delle centrali di sollevamento a Prata di Pordenone. Il 16% degli investimenti ha riguardato gli impianti di depurazione come quelli di Porcia, Portogruaro e San Vito con un ampliamento della potenzialità e modernizzazione del processo di depurazione svolto nei territori serviti e un altro 21% al completamento e miglioramento della fognatura. Investimenti al servizio dell'ambiente hanno aggiunto da LTA e quindi anche per le generazioni future. Il Presidente Vignaduzza ha concluso ringraziando tutti i comuni soci che hanno sostenuto l'azienda in questo percorso di sviluppo. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima!